Dopo un'indagine durata almeno due anni, diretta dalla Procura della Repubblica di Teramo e svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo, sono state seguite dieci ordinanze cautelari di divieto di dimora in tutta la provincia di Teramo, emesse dal GIP nei confronti di altrettante persone per il reato di abuso di ufficio in continuazione in concorso con pubblici ufficiali dei comuni di Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Castellalto nell'ambito delle procedure di rilascio della cittadinanza italiana a favore di cittadini brasiliani che nel loro albero genealogico bantano avi italiani emigrati all'estero. L'indagine è stata avviata in seguito al gran numero di richieste di passaporto italiano pervenute negli ultimi anni nella Questura di Teramo da parte di neocittadini italiani di origine brasiliana che avevano acquistato la cittadinanza italiana proprio presso i comuni di Pineto, Roseto, Notaresco e Castellalto in almeno 72 pratiche di rilascio di cittadinanza richieste negli anni 2015 e 2016 presso il comune di Notaresco e promosse da diverse agenzie di disbrigo pratiche che svolgevano il ruolo di intermediari tra il cittadino brasiliano e le istituzioni italiane l'ufficiale dello Stato civile di quel comune ha lo scopo di accelerare la procedura di riconoscimento dello status civitatis necessario per il successivo ottenimento del passaporto italiano aveva attestato falsamente che la richiesta di cittadinanza era stata loro presentata in una data che in realtà è risultata antecedente rispetto all'effettivo ingresso nel territorio italiano da parte del cittadino brasiliano e quindi quando lo stesso si trovava ancora in Brasile inoltre è stato accertato che in molte delle pratiche l'ufficiale di Stato civile aveva falsamente attestato nell'atto di concessione della cittadinanza che si erano verificate tutte le condizioni per il legittimo riconoscimento quando invece non era stata ancora effettuata la verifica dell'abitualità della dimora nel comune del cittadino brasiliano richiedente analoghe e false attestazioni da parte dell'ufficiale di Stato civile si sono state rilevate in diverse procedure di riconoscimento dello Stato civitatis a favore di cittadini brasiliani nel comune di Pineto negli anni 2015 e 2016 in definitiva numerosissimi sono risultati cittadini brasiliani che hanno fatto ingresso in Italia al solo scopo di ottenere in tempi molto brevi il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso gli uffici comunali della provincia di Teramo e con la fattiva collaborazione di agenzie di disbrigo pratiche di cittadinanza e di associazioni culturali italo-brasiliane le quali sono risultate al centro di un fenomeno di tipo affaristico e imprenditoriale l'attività tecnica di indagine ha fatto emergere un allarmante scenario caratterizzato da rapporti più che amichevoli tra gli ufficiali di Stato civile dei comuni interessati e gli intermediari che curavano gli interessi degli aspiranti alla cittadinanza italiana nonché tra questi ultimi e gli agenti della polizia municipale preposti ai controlli delle residenze risultate fittizie grazie a tutti grazie a tutti